Cerimonia per il cambio al vertice la guardia costiera di Giulianova, il nuovo comandante e il tenente di vascello Alessio Fiorentino, che prende il posto della tenente di vascello Daniela Sutera alla guida del comando giuliesi da due anni. Fiorentino, nato a San Giovanni Rotondo 39 anni fa, sposato e padre di due bambini, proviene da un'esperienza di comando nello scalo pugliesi di Manfredonia. Il comandante Sutera dopo Giulianova va al comando generale della guardia costiera di Roma. Durante il suo saluto ha voluto ripercorrere il lavoro portato avanti in questi anni. È una giornata emozionante, simbolica, oltretutto veramente significativa non solo per me ma per tutto il circondario marittimo di Giulianova, che è il consueto appunto passaggio di consegne. Le attività, come ho detto, sono state tante, ripercorrendo, cercando anche di tirare le somme del lavoro svolto, sicuramente tante le attività ambientali, le attività per materia di pesca, ma anche quelle di assistenza e soccorso, soprattutto quest'ultima estate dove i bagnanti e comunque gli utenti del mare sono notevolmente aumentati dopo il periodo effettivamente di stop dovuto al Covid. Il nuovo comandante fiorentino già nei giorni scorsi ha incontrato i sette sindaci della Costa Teramana. L'obiettivo delle visite è stato quello di fare il punto e pianificare gli obiettivi su cui lavorare per il futuro. Io qui a Giulianova ho trovato una situazione fantastica dal punto di vista del personale, dal punto di vista dell'ufficio, dal punto di vista della compattezza anche dei rapporti istituzionali. Ho avuto il pregio e il privilegio di visitare la Costa, di interloquire con gli attori istituzionali e ho visto una grande comprensione, una grande sensibilità verso l'amministrazione marittima e sono fiero di essere qui, sono onorato e ritengo che sia un circondario marittimo di assoluto pregio. Ripartirò dal punto di partenza che mi ha dato la mia collega Danila Sutera. Ha lavorato bene, ci sono ottimi rapporti, le situazioni in divenire saranno comunque costantemente comunicate. Dobbiamo tutelare un lungo litorale marino, più di 60 km di costa, sette sorelle definite tali con sette bandiere blu. Quindi abbiamo una serie di compiti che dobbiamo svolgere in routine. Tutte le occasioni per migliorare un substrato già altamente elevato saranno comunque messe in campo.